Buonasera a tutti, un altro momento importante della trasmissione Gente dei Raghi. Buonasera a tutti, Ciro Finca, che è un Pascaro professionista, quindi parlare di pesca e parlare di Raghi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, Ciro, un personaggio caratteristico, Ciro è nato l'U27 del 1942. Non sapevo che ha fatto 65 anni, se devo volo. Tu sei nato a Pultuturas. Cosa ti ricordi di Pultuturas dei partiti? Pultuturas mi ricordi sempre un'infanzia dei macchi, sempre della pesca, perché dei partiti. Io ho iniziato a chiedere a sette anni dei macchi della pesca, i miei, 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 mi portavano in barca con i miei, però per imparare, invece che altro, noi per lavorare, perché a sette anni non potevamo lavorare, non potevamo fare un prezzo, però è nata già in barca, fare l'acqua, preparare, e fare tutto da sette anni. Praticamente questi sono 60 anni che io faccio a bagno. E dopo ora si finisce alle dati di 15-16 anni. Quindi fin a 15 anni tu sei stato... E ti raccogliare con la scheda di epatite, sei cominciato a lavorare, ha i dati che ti arriva a... sette anni praticamente. Ecco, al cinquanta sette ti arriva a Schinzanz, vero? Si. Al cinquanta sette ti arriva a Schinzanz e si è stangutevano i aralghè per il manastere... Per il traballo. Per il traballo. Per il traballo. Per il traballo. Perchè appunto i aralghè già erano calati come traballo e lo sono tutti i aralghè. E' compreso. Aralghè si sono stangute del sol o amare la famiglia? No, era del sol, però l'aralghè teniva già un gelmai, una gelmana. Ah ecco, dopo tutt'ora. Dopo tutt'ora, si. E' compreso. Quindi la famiglia era grande, come era una famiglia grande? Si, ma erano un gelmanze. No, gelmanze. Ma erano tutti i pascaruzzi. Non erano tutti i pascaruzzi. Non erano tutti i pascaruzzi. Tre donne che giustamente fanno una casalinga. Però erano tutti i pascaruzzi. Quindi erano tutti i pascaruzzi. Quindi erano tutti i pascaruzzi. L'am prego la sangue. E' compreso. Ascoltaci, no. Aralghè praticamente come la prima coppa ci. All'inizio di me non ho conosciuto neanche la lingua algerese. Ormai mi sento che sono algerese. Sono già cinquanta e abbastanza erano lì. E mi sono imparati bene la lingua algerese a parlare. E ho trovato gente per uguale che mi hanno portato bene il nostro ruolo. Poi... Però Diego... Di emasci dal cinquantasette sono dovuto andare via. Sono ritornato un'altra volta al cinquantotto. All'algero. Al cinquantotto ho fatto tutto al cinquantotto. Ecco. Era sempre al cinquantasetti. Ci dobbiamo fare un momento. Cioè... Al cinquantasetti tu hai stancato il primo Iambalc. Si. Era una balcapatita. Una balcapatita. Una balcapatita. Esatto. E... Travallava a speconta di chi? Eh... Lo cognome di... Ciantonino... Non era un di Napoli? No. Non era un di Napoli. Non ti ha raccolto la schiera che... La balcapatita no. E che pesca fevo? Di Lucisto non mi ha raccolto. L'uomo già mi ha raccolto. Lucisto è che non mi ha raccolto di bene. Si aveva Lucisto. Pesca di... Pesca di pesci. Di emasci di... Piccola pesca di... Pesca patita. Esatto. Mentre io ho tenuto anche io sempre che tu hai lavorato... Ma Pino di Napoli... Di Napoli al 58. Al 58. Ecco, al 58. Quando sono ritornato. Allora, a nemmeno poco. Si. Quindi fevo la... Asquanzata a pesca. E praticamente... Tu hai preso sempre al 58. Ti sei stagato a una foras. Si. Al 58. Allora... Fine... Fine... Sono andato via del Ghero. Al 58. Sono ritornato. Ho lavorato con il di Napoli. Pino di Napoli. Pino di Napoli. Pino Russina. Russina. Sì. Pino Russina. Ecco, di Cisto Russina. Ho lavorato lui. Dopo, di là... Sono andato via un'altra volta. E sono andato a lavorare a Olbia. Ho fatto due anni a Olbia. 60 e 62. Ecco, per conto di Pesca sempre. Sempre a Pesca. Sempre a Pesca. Ambalcati sempre. Per conto di Altus. Per conto di Altus. Ecco, è compreso. E infatti, dopo il 62 da Olbia, sono andato un'altra volta a Porto Torres a lavorare. Sono stato tutto il 62 lavorando sempre all'ante della pesca dei Pescherici. Sempre dello strascico ci parliamo qua. Dopo di là, 62, sono andato alla Maddalena. L'inizio 63. Ecco. Iniziamo già ad andare sul... Ecco. Anche io. Anche i tessi sfalmati. Eh. Volevo dire una cosa. Come stavano tanto a Ciro e senti nato a Porto Torres. Parla bene l'algarismo. Ma parla bene. Ancora tanti di una parla in Italia. Ma non è pure una colpa però. Per cosa... È normale che... È di ammirare una persona. Da spesso di tanti anni. Ma la lingua... Gli ha voluto... Sì. E noi abbiamo voluto un bel po'. Un bel po'. Un bel po'. Ah, io voglio di parlare sempre tutta l'algarismo. No, no, no. Manco l'Italia. L'Italia c'è un pello da prendere l'algarismo. Non ti preoccupi. Non lo so niente a ridere. Però lo so niente a ridere. Lo so niente a ridere. Però lo so niente a ridere di una persona che è nata in Tanza anche. Eh. Tani gente di Viranova. Si. Che parla bene l'algarismo. Noi se... Quindi al 63 si è arrivata l'algarismo. Al 63 cosa è successo? Al 63 si è successo? Sì. Sì. Al 63 si è pensato. Io tenevo 20 anni. Sì. 23-20 anni. Ho fatto... Ho pensato... I pensati direttamente io per il capo mio. Ho detto... E' una vita che ho anche... E' una cifra che non mi conviene. Per cosa praticamente devi fare. Prendere la roba... Cara Samana. Roba brutta. Portare per il Torras. Tornare. Tornare a portare la roba brutta per portare... Per rientrare la casa della mamma. E adesso ritorniamo a casa. E quanto si è casata? E con una cifra che c'è donna. Al mese... Diamoci al mese di giugno. Del 63 sempre. Che si conta perché ha... Ma moglie. Del 63 si è con una cifra. Ma giugno... Passati 3 mesi. Ma sono casata l'algarismo. Nel STB. Le cose non... Apoli va a fare una... No, no. E siamo casati nel 63. 63. Si avvisava... Francesca. Avevo tagliato i fili? La prima no. No avevo tagliato i fili. Si si. Ora vi facciamo un attimo anche. Allora... Avemo detto che adesso al 63 si è casata. Sempre sotto a due ne ho lavorato. Si si si. Al 65... Ha scomprato la prima barca. La prima barca. Ecco. Che barca era grande? Com'era? 14 metri. Era un pescheriggio partito. Ecco. Che tipo di pesca fevo? Lo strascico. Allora... Posso spiegare lo strascico? Perché qua non si ha portato i mesi... Sì. Sempre. Però soltanto perché i primi lo strascico lavoravano anche sotto la costiera. In noi era che c'è la sorveglianza dei primi. Allora si apuliva a lavorare benissimo. Quello che non ti davano... Si. Quello che tanti ti davano un po' di fastidi. L'autorità dei mariti. Ma... Avevo invece... E' una massa difficile di lavorare sotto la costiera. Per cosa c'è... Massa sorveglianza. E massa di distruzione del fondo. Distruzione per cosa... Del fondo per cosa... La fauna marina e un altro. La fauna marina, tutto il manuto. Tutti. Praticamente... Nove lame. Tutti. Partiscono tutti. E' un attrezzo... E' un attrezzo micediale. E' un attrezzo micediale. Tutti. 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 Oltretutto. 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 Erano 4 o 5 barche grosse. Dopo venivano le barche di... Venivano le barche di... Diciamo così. Torre Greco. Ah. I napolitani. I napolitani. a quel bar... Bar latino. Ma parecchio. Sono andavano... E giù la talda. Si posavano... Avevano una fontanita patita. Si. I patizini si combinavano di cara maniera. Per cose. Si posavano all'an rossa. Favano un patito di fuoco. O si mangiavano qualche cosa. E cantavano sempre una canzone. Che era anche sempre almeno. Non mi raccomando spavano. Ma una cosa del genere. Era... Come bella marona... Era un coro... E mi usavano... O issa... O issa... Lo dai. Era la canzone napolitana proprio Delius. Non si. Maracolta che c'è. Si. La canzone napolitana Delius. Eh. Beh. Quindi ha sceso esastati. Finse al 68. Sino al 69. Ecco. 68-69. Ho abbandonato un'altra volta. E abbandonati la pesca. Al 68-69. Al 68-69. Al 68-69. E abbandonati la pesca. E sono andati all'inizio del 70. Trabagliando ai cecchini. Ecco. Al 70. Si si. Al 70. Si si. Si è entrato a trabagliare. Ante Moreno Cecchini. Fendi il cuoco. Che prova Moreno Cecchini. Che ha sfetti il cuoco. Si. Ecco. E lì si è stati... Non si è più... Quattranz. Quattranz. Quattranz anti Cecchini. Si. Quindi tu eras proprio lo... Quinei agli a... Si si si. Io fevo il cuoco direttamente. Quindi ti ha raccoltato. Se neanche il periodo... Carauta ne aveva un reparto delle. Si si si. Carauta erano... Un, due, tre, quattro. Quattro cuoco. Addirittura. Che era un reparto del pesce. Che conta che era Antonino Ponedu. Eh, così. Che feva la... Deciò del pesce. Io mi ha fevato il reparto dei spremelsi. I primi piani. I primi piatti. E levo... Totelo... Lo sugo... La bagna. La bagna feva tutta io. Hai compreso. La bagna feva tutta. Quindi ti eras specializzata? Era specializzata. Era specializzata per i spremelsi. Era e la bagna. E Moreno... Se non Moreno com'era? Moreno dava... Carauta ti dava una macchina. Una macchina. Si. Praticamente il reparto era sempre aprì. Eh. Un bel estivo era sempre aprì. Prendì. Prendì. E ora si non fevano come... Era una garanzia che lo cava. Era una garanzia. Era una garanzia. Anche i ristoranti. Però dimmi sì che i nostri lavoratori fevano ora. Paricci. Ora. I nostri entravano in tanti di Magliettì. Finti anni. Da due o tre di Magliettì. C'era delle volte. Però soddisfetti ammonde... Si. E a me non erano mai... E erano sempre soddisfetti. Per cosa... M'u' dava dei mesi del tanto. Del tanto. Si. A proposito, dato che non stiamo parlando... Io mi ho raccolto l'u'para... Per cosa? Cara di Luns l'u'para... Si non è tanto. Era. Cara di Luns... Aveva una pultetta... Una pultetta patita dell'altra parte. Allora... Cara di Luns... I nostri, al manco che lo sabiva... O che andava... Comunque era sempre a fila... Andava a noi altri... Mi mi inviava la mamma... A me... A me... A me... A me... Cara di Luns... A chi andava... Ma feva... La... Lo bro... Feva il bro... Si. E io lo dava per sprova... Si. Per chi andava a manastè... E era che c'ha fila... Che c'ha fila... Soltanto che... Come al solito... Inoltre. sa gira... Si... Con Ma raccolti sempre. E... Insomma i barzi... All 74... Al 74... Scomprati... Un'altra barca... Un'altra barca... Un'altra barca... De... Pesca... Piccola pesca... Ecco... Piccola pesca... P Pesca... Il pesci... Pazza, Rascassa, Moriuras, Diemachie, Runcalzi, Sipia, tutti i pesi mascherati. E ne avvia di mesi di pesce a distanza. Ne avvia ancora di mesi di tira. Ne avvia di mesi di vulveres. Insomma, Diemachie che ha vui, come Balthas, ma a tre volte stante degli anni 70, Diemachie. E ha superato il cento, il cento per cento di mesi, ha vui, ha intensi di vulvi. Sì, sì, sì. Vorrei dire, quanti dei veli a Malthas e Mani non si arriva perché la banca magari si attira a terra. Si, si attira a terra. Feva altre cose per la famiglia, perché arriva di lavorare. Certamente sì, però Diemachie prima degli anni 70 sapeva una cosa. Ancora di mesi. Ancora di mesi perché andava a morire in riva. Ah, ecco. A morire in riva. A morire in riva. A morire in riva. O con le olive di velpe. Cosa di velpe. A Balthas e Mani non si sa prima di riva. Con c'altro, quando tiravano la banca a terra si iniziava dal mese di novembre. di novembre e salmava addirittura al mese di Malz, al mese di Malz spronza e sci. Prima il re abbaio non toccava mai ninguno, mai ninguno agitava per cosa praticamente era sci l'uffetti, non è che io adesso il re abbaio mi ha fatto maltenza, mi ha distrutto e allora ninguno agitava il bagno prima di Malz. A voi non è sci, a voi è tutto l'anno, a voi è tutto l'anno. Quindi la reina fina e il tramaglione? També è il tramaglione. Sempre in questo periodo e a cosa consiste? Consiste che la reina del tramaglione è una reina che si addecia al bagno per agli agosto. Per agli agosto. Per agli agosto si deixa sempre 2-3 dias sempre salvo chi non fa il maltenza, se fa il maltenza allora si va quanti di macchiqui è il bontenza per poi recuperare. Per cosa si deixa 2-3 dias per cosa la reina e la maglia è scara grande, il pesce va a la maglia e il resta l'aglio agosto si va a mangiare. Allora 3-3 dias prendeva anche i vinteri anche gli agosto, anche gli agosto, gli agosto, gli agosto, gli agosto. All'epoca la macchina avevano 3-4 gli agosto e li buscavas bene, tiravano avanti bene. Curiosa perché non lo sape, la reina si lasciava a fondo manco a quel dia per prendere il pesce patito in modo che andava all'agosto per mangiare il pesce e si prendeva anche l'agosto. Ma usavo nasce? També le nasce usavamo, una volta che non nasce allora si usava il cigarello. Il cigarello è come una nasce, però è diversa forma. Il cigarello è una nasce ruona, due entrades, ma due entrades, l'ubeltura da Monti, proprio un cilindro praticamente, due entrades e l'ambucca da Monti. Allora si usava il cigarello, si usavano una volta. Io mi ricordo dei patiti che erano uno scascionze che usavano, cioè a cosa salivano questi scascionze? Allora un altro tipo di, quello nasce artigianalmente però non di junk, è di ferro, è un altro particolare che magari l'uffevano del ferro per non distruirlo, cosa lo junk, un ambatto, una cosa sta a distruirlo. E invece lo ferro? Invece lo ferro arresta sempre. Però, come pesca, lo junk era sempre a vincere, sempre a vincere. Quindi, la pesca non ti appuntava questo ucciso, la pesca vedra al mercato? Allora, la pesca io veniva a mercato. Ecco, il mercato. Lo pescato mio lo veniva io a mercato. Ecco, per cui ho raccoltato i patiti che, anche gente di famiglia mia, il padre di Pasca e Rolze, si andavano i patiti. Io ho raccoltato sempre a Viglia che avevano il pesce di Giannetti tutti, avevano pesce, pesce, pesce magari, e lui venivano a nascere da casa in casa. Esatto, in San Rira andavano per casa in casa. Un sacco di gente, un sacco di Pasca e Rolze. Pascavano e andavano a casa per casa, ma addirittura già nataggiati tutti. Già pronti a quella. Era già nataggiato, ciò mi ha raccolti. Allora, arriviamo al 1976. Al 1976 ho venuto tutta una pesca. Ho venuto tutta una pesca. E sono andato come un peschericcio. E sono andato come un peschericcio che era di? De Cimino. De Cimino. Baldino. Di cognome. Cimino Lucisto. Cimino Lucisto. Cimino Lucisto. Baldino. Si. E hanno lì uno scollegastoso che lavorava? Cimino Lucisto. Allora, scollegastoso mio. Di 8 anni va Mario Satta, che era motorista. Le guida Mungelma, che era me e i ferveri pratiche della marina. Mungelma insieme. E una botte mio. Un fil di Mungelma. E compresa. L'equipaggio quattro. 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 No? In genere portavano pigiatì. In casa. Si portava la roba in casa. La roba in casa. E quindi hanno lì una pesca normale. Qualche cosa ti raccolti? Un bel raccolti? Sì. Grazie a Dio si. Ho un bel raccolti. Tutta la sbarca. I comandati mi sono trovati sempre bene. Ecco. Da spese di Baldino si è sfettitona il comandante di un altro gran pescheriggio. Un altro pescheriggio grosso. Il vecchio Pirichitto. Il primo mese. I cari Giovanni. Però quello ha cambiati. Non mesi cooperativi su un consorzio di Giovanni del Rio. L'un abutti del primo Giovanni del Rio. De Pirichittus. E compresa. Si stavano amati già a stare lonti. Si si si. Al via di Arduino stavano. E ne hanno accostati. Si. E hanno anche la pesca a Balcagrana che c'è. A Balcagrana infatti c'è la fotografia. Si si. Era una pesca di altura. De altura. De gamberunzi. De gamberunzi. 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 Quindi la gamba era più grossa. Era più grossa. E la marina era ricca. La marina era ricca. L'epoca era ricca. I altri pescati sempre al mercato lo portavano. Si. I altri pescati andavano in cooperativa. Passati in cooperativa. La cooperativa si interessava a vendere. Si interessava soltanto all'epoca. solo a lavorare a bagno e portare il prodotto in terra. Gli usi alla cooperativa. Quindi esisteva già in quel periodo, in quel tempo, io mi ha raccolti il ghiaccio a Sant'Elmo. Si, a Sant'Elmo. Era lì. Esisteva già. Quindi veniva già lo ghiaccio, veniva tagliato e pusato. Allora, Sant'Elmo, la cooperativa, diciamoci di pescatore di Campi Balca, la cooperativa, questa roba del 1948, del 1948. Del 1948 addirittura. Il saffi va il ghiaccio, tam'è. Il saffi va il ghiaccio, tam'è la popolazione. E' compreso. Quindi il pescat era ben vanuto. Si, il pescat era ben vanuto, per cosa i nostri erano sempre la percentuale, mai la mensilità. si, 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 si. Ma i moni erano proprio fissi. I moni erano i nostri erano i nostri erano i nostri erano i bagni. E beh, e beh. E anche arriviamo... Tutto che ci usavano... E anche arriviamo all'epoca. Arriviamo che io... Allora stavamo in niti di a bagno. Stavamo? Niti di a bagno. Praticamente tres dias e tres nizi. E poi rientravano. E compreso. Tres nizi e tres dias. A bagno. E sei ieri che eravamo a... Cinque. Cinque. Cinque equipaggio. Sempre sotto, sempre la mia dipendenza. E allora sa mangiare? Il comandante era sempre io. Si. Sa mangiavan bagno. Sa mangiavan bagno. Cosa mangiavo? Ecco, pazza. Mesi che pesce. Perché calne. Giustamente. No, no. Pesce, la compazza, la gamba, qualche volta gli a scampi, la pasta asciutta ma gli a scampi. Mangiavano tutta la roba di bagno. Quindi la cosa che allora era una cosa normale. Ciascosa sa vuoi, sa va mangià, sa va mangià. A un ristorante... A voi costa bene? Oltre che costa non mangiare mai la roba che... Noi nemmo us'altro. E vabbè, usato se sono altre cose. E' massa difficile. Lasoglias biglias, granisino. Si, si, si. Sette metri. Sette metri. Sette metri. Che a chi cosa. Gli anni. Sempre... A Crescere compravano 86. Ecco, anche il periodo. L'abbia comprato del Busincu. Ah, ah. L'uccisto sempre. Si, si, si. De Lai. Tore Lai. Lupara. 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 Al 86. Al 86. Al 86. E a Crescere, la stangura per 6 anni? Dos anni. Al 88. Fins al 88. Al 88 è presi... È venuta quella e comprati l'altra di 10 metros. E compresi. Che in cui esi hanno fotografia. Hanno fotografia, si, si. Le visti. Le... Anzi, si. Fins al 90. Fins al 90. Sì. Il regista eh... Lampis. Musa via. Musa via. Calche fotografia. Scilus. Ascoltaruz. Poramviura. Ecco. Anche i anticicili. Anche i suoi ammalcati. Anche i vaneva frutti e verdura. Ammercati. Ammercati. Per cosa? È un ampreo che tu hai acquisito. È un ampreo che... Maffetta qui si... Gente che attualmente aveva conosciuto al momento eh. Non è? A pochi mesi che io ero. Anche i suoi? Anche i suoi io. Agli anni sessantaquattro che Anche fevo l'Opascari. E che la barche era la barcha mia. Il pescheggio patito di 14 metros. E Anche i suoi ampreo di Straschico e l'ampreo di Agliegosta. Dei Tramaglioni. Vint'anzi. No. Vinti, dosi, vinti, tresi anzi. Vinti, dosi, vinti tre sanzi. Vinti, vinti tre sanzi. L'epoca di... Quindi... a 64 no a 65 se manchi praticamente avevamo preso la cagliabalca in affitto per la giornata di una manifestazione di gara di pesca di portista subacqua di portista e noi avevamo preso i primi premi perché gli accerni a chiotta in Cammanza 27 kg 27 kg passava che gli accerni e allora si usava a darlo la chies pascata sì sì è stata fatta una cena addirittura stava fatta una cena ma tutta la gente gli anni 70 che è abbandonata la pesca e sono andata da cecchino a fare il cuoco si è Moreno il primo inizio è Moreno io sono sulla sinistra la sinistra l'Udemici ha un fondo insomma è stato un bel periodo l'Udemici è stato soddisfatto anche sul lavoro che ti ha raccolto a scalchi Calmarie di Caltenzi voglia io ho conosciuto cioè la Caltenzi l'Udemici era ancora Raffaella Stagnaro che lavorava Raffaella era Cammerè era Cammerè Raffaella l'Udemici 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 all'epoca era io io avevo il cuoco e gli ho sferito Cammerè ma io erano già versi però erano già versi e gli ho lavoravano prima che entressi io e gli ho già lavoravano a Malpara a Dececchini è compreso a 70 sono entrato io tu le mandrile verso l'Udemici 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 tu no ho scomentato quando si va a buttare il ghi e è successo qualcosa hai assistito a qualcosa tu a una sgraccia cos'era che l'Usanzi l'Usanzi che l'Usanzi avevi assistito il molti l'Usanzi 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 esistiti che erano trabaglianti i due sbalcari accostati e avevi assistito molti al mondo del pescreggio che il calcuta bagno è smolti ma lo diemo ci due assieme con l'altra moglie in quanto moglie l'arriera e due assieme escheggisci a quelli affetti con la presa al po' la getta bagno e il calcuta bagno è smolti è smolti e a quell'Usanzi era algaresi si era parenti dei pericchiettos di pericchiettos e l'Usanzi ha raccoltato di l'Usanzi si c'è un nunzio ma decisto la ciampina mi parecchiettos la statica proprio di ora mignone allora non mi ha raccoltato ma comunque mi ha raccoltato che annunzio la ciampina decisto e non si ha il calcuto e non si ha il calcuto si ha il calcuto e ha ma lo stracico e ha il calcuto e beh eh e tarnino e cos'è tarnino la pubblicità tara si tarnino pubblicità uns enteniment avui a B o zéola.